Torino Web News 200 metri quadrati di ghiaccio aperti negli infrasettimanali dalle 8 alle 23, nei prefestivi e nei festivi fino alle 24. Due mesi in apertura in cui la pista offrirà ai cittadini la possibilità di fare pattinaggio libero ma anche appuntamenti di allenamento degli atleti di tutte le discipline del ghiaccio, dal pattinaggio artistico al curling con esibizioni di atleti nazionali e internazionali. L'ingresso in pista costa 7 euro mentre per i ragazzi delle scuole e per chi possiede i propri pattini l'ingresso è gratuito.